In realtà sono stati colpite quelle persone che magari il lavoro l'avevano perso e non riuscivano a tenere aperta la loro attività, per esempio anche immagino il piccolo commerciante, il piccolo artigiano che chiudeva perché magari ci stava rimettendo, sapendo di dover andare in pensione dopo un anno, un anno e mezzo, due anni, diceva faccio i sacrifici un anno e mezzo, due anni perché altrimenti continuano a rimetterci. Improvvisamente l'accesso e la finestra per andare in pensione è aumentata fino a otto anni, fino a otto anni in più, quindi una misura drammatica messa in campo in maniera assolutamente superficiale, perché oltretutto ricordo che se tutti gli altri paesi in Europa, anche con le riforme difficili della Previdenza, sono sempre graduate nel tempo, non è che lo fanno perché dalle altre parti sono più buoni, semplicemente perché si sa che quando si fanno questi scalini improvvisi e così ampi, nel breve periodo addirittura i costi per lo Stato aumentano per salvare questi casi drammatici, non a caso le salvaguardie sono costate miliardi e miliardi. Sono sette salvaguardie per gli esultati. Forse si arriva alla otto dove rosa l'ottava. Mi dice che è attesa, tra l'altro.